Ben ritrovati, buonasera a tutti voi che ci seguite sul canale 17 del Digitale Terrestre in Abruzzo e in Molise e un saluto anche a coloro che ci seguono in streaming sul nostro canale YouTube Tele Regione, canale 17, il nome e sul sito teleregionetv.it Due parti, anche questa sera nella prima parte parleremo di basket, di hockey e di altri argomenti nella seconda parte parleremo di calcio di serie D, di eccellenza e di promozione vi presento subito gli ospiti ho il piacere di avere per la prima volta Giustino Altobelli buonasera Giustino, grazie buonasera a voi vice allenatore della Molisana Magnolia Campobasso, assistant coach e ho il piacere di riavere Emiliano Preziosi buonasera Emiliano, ciao buonasera a te e grazie per l'invito buonasera a tutti docente di scienze motorie, sei al convitto Mario Pagano di Campobasso quindi con voi due parleremo di basket, rispettivamente di basket e di hockey prima volta credo Emiliano Hockey nel capoluogo regionale molisano assolutamente sì ma poi se escono argomenti a braccio lo facciamo ogni giovedì sera ecco Agostino, benvenuto a zona sport Giustino scusami, prima esperienza in Molise per te siamo già a buon punto per quanto riguarda la regular season della Magnolia nel basket femminile di Serie A1 si può fare un bilancio della stagione, Giustino? sì, credo di sì abbiamo fatto un percorso sopra le nostre aspettative ma non solo le nostre perché siamo arrivati a questo punto del campionato nella posizione di classifica che non ci immaginavamo all'inizio dell'anno siamo qui a vedere se riusciamo a mantenere questa posizione fino alla fine dell'anno l'unica cosa onestamente che un po' ci è rimasta un po' in gola la Final Four di Coppa Italia che forse avremmo meritato ma il campo ci ha detto di no per cui accettiamo il risultato del campo e guardiamo avanti sicuramente abbiamo fatto un ottimo percorso la cosa che in questo momento ci preoccupa è il fatto che abbiamo dovuto fermarci per un mese vista l'interruzione per le Final Four per le nazionali, per le qualificazioni olimpiche e in più per noi il fatto che alla ripresa del campionato era il nostro turno di riposo per cui è esattamente da un mese che non giochiamo e la partita prossima in casa sarà una delle partite più importanti del giro di ritorno sì, e tornate all'arena dopo diverse settimane tecnico siciliano lo dicevamo prima con Emiliano, Giustino siete tre tecnici siciliani a Campobasso ci sei tu poi c'è Mariano Maniscalco a proposito salutiamo Mattia Minuti che sarebbe dovuto essere in trasmissione questa sera ma ha un po' di problemi di salute e poi c'è Rosario Pergolizzi che è il tecnico del Campobasso tu avevi già però incrociato Giustino qualche anno fa la Magnole sì, io siciliano di origini ma ormai sono tanti anni che sono in giro l'ultima volta che sono passato a Campobasso è stato l'anno di A2 quando io allenavo il San Giovanni Valdarno e Campobasso era proprio in A2 con l'obiettivo di andare su è stata proprio la stagione che poi il Covid ha fermato tutto e quindi abbiamo fatto sia la partita d'andata che siamo riusciti a fare la partita d'andata qui a Campobasso e ritorno da noi poi si è fermato un po' tutto e quindi poi c'è stata la promozione di Campobasso quindi questo è stato l'unico momento in cui abbiamo avuto l'incontro perché per il resto prima io lavoravo in A1 e Campobasso ancora diciamo nelle serie minori Cosa dire di questo team? Ma è una formazione, direi una società che in crescita sta strutturando sia dal punto di vista societario che dal punto di vista tecnico anche lo staff insieme a Mimmo Sabatelli e il preparatore atletico Walter Brandoni stiamo cercando di portare al massimo livello queste ragazze non dimenticherei neanche lo staff medico e sanitario perché ci dà una grande mano nell'essere competitivi e nel farci trovare pronte la domenica Ecco, se stacchiamo un attimo con queste immagini se volete intervenire mentre c'è il discorso, il dibattito fatelo senza che aspettate che ve lo chieda io Emiliano, c'è stata questa bella iniziativa di Occhi e quindi è la prima volta dicevamo a Campobasso vi faccio i complimenti anche a Rossella Gianfagna come attrice del convitto Mario Pagano anche diciamo delegata della federazione Da settembre che è nata questa federazione Occhi Molise dove la professoressa Rossella Gianfagna nonché il rettore del convitto è presidente è stata una cosa molto affascinante quella di ospitare per la prima volta questa disciplina in Molise ripeto, siamo partiti a settembre con la federazione e pronti via abbiamo subito, si è subito fatto un corso di formazione per tutti i docenti per poterlo poi promuovere anche nelle scuole e l'unico modo per poter di impatto già far avvicinare la regione Molise a questa attività è stata quella di ospitare queste fasi nazionali anche al 18 maschile perché sappiamo che comunque ogni evento soprattutto se è importante un evento nazionale può essere un passaparola importante sono state due giornate intense che hanno visto partecipare 5 società provenienti da tutta Italia abbiamo avuto una squadra della Sicilia raccomandata precisamente di Messina poi San Giorgio poi abbiamo avuto Battlefly Roma abbiamo avuto il Cus Pisa Genova 1980 è stato un evento bellissimo è una disciplina che ovviamente qui non era tanto conosciuta cosa dire dell'hockey? per quanto riguarda la federazione italiana disciplina e regolamenta l'hockey sul prato hockey indoor e il beach hockey quello che abbiamo spettato noi è l'hockey indoor che state vedendo anche nelle immagini gli ingredienti principali di questa disciplina sono la presenza di un bastone ricurvo una pallina, una semplice pallina e 12 ragazzi che si scontrano in campo l'obiettivo è quello di segnare la palla deve essere catapultata in rete per poter quindi portare in vantaggio e poter portare a casa i tre punti e ripeto è una disciplina molto molto complicata apparentemente è sempre molto semplice però la coordinazione oculo-manuale è veramente importante da sviluppare perché comunque avere già un bastone in mano da manovrare in più avere il controllo sempre della pallina che deve stare più attaccata possibile al bastone vi fa capire la difficoltà di questa disciplina e nonostante tutto tutti ci possono riuscire la cosa bella è che comunque questa disciplina è una disciplina dove non solo non c'è un attimo di pausa ma in campo c'è sempre il fair play è una disciplina considerata di veri gentiluomini perché comunque mette al primo posto doti morali e tutto ciò che riguarda il fair play ecco tra l'altro c'era anche tanta curiosità qui perché in Molise magari nel nord Italia non è così ma in Molise è davvero una novità cioè noi molisani siamo lontani dall'hockey quindi è stato bello organizzare questo evento Assolutamente, ripeto promuovere sport e quindi far avvicinare e far conoscere delle discipline sportive è sempre l'impegno principale che ogni regione, ogni città dovrebbe avere anche perché lo sappiamo lo sport è un tornaconto importante attraverso lo sport quindi non solo si acquisiscono dei valori ma anche c'è la scoperta del territorio e le 5 delegazioni che sono venute qui a Campobasso hanno apprezzato tantissimo l'accoglienza hanno apprezzato tantissimo la città di Campobasso hanno apprezzato tantissimo la cucina hanno apprezzato anche gli impianti sportivi quindi vuol dire che noi abbiamo le basi per poter davvero promuovere sport emergere e diciamo competere con altre regioni basta solo avere il coraggio di farlo il rettore, la professoressa Rossella Gianfani essendo a capo della federazione visto che lei si cimenta sempre in queste cose quindi accetta sempre le sfide ed è stata secondo me una sfida vincente quella di portare questa disciplina a Campobasso ora l'obiettivo ovviamente è quello di creare una società per poter anche far praticare non solo a scuola nelle ore curriculari ma anche nelle ore pomeridiane questa disciplina che ripeto è difficile ma affascinante qui si scherza sempre magari Giustino non lo sa è d'obbligo fare la battuta tu dicevi è andato tutto bene è andato tutto ok è andato tutto ok senti Giustino hai avuto anche delle esperienze fuori dall'Italia sì sono stato due anni a Sopron in Ungheria nella società che poi quell'anno lì uno dei due anni ha vinto l'Eurolega ma lavoravo con le giovani ho fatto un campionato diciamo di sviluppo di seconda lega come la nostra due con le giovani per cui ho lavorato due anni in Ungheria l'unica problematica è stata che sono stati due anni di covid per cui lavorare con la mascherina parlando inglese non è stato semplicissimo soprattutto a livello della comunicazione delle motivazioni della mentalità però devo dire che sono stati due anni molto positivi è un'esperienza che rifarei sicuramente ultimamente si parla molto di Ungheria per la vicenda della ragazza che è detenuta lì ma come si vive Giustino tu che ci sei stato diverso tempo non è che ci sei stato qualche mese sì 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 in Ungheria si vive bene probabilmente rispetto all'Italia c'è ovviamente la differenza del cibo c'è una differenza di stile di vita perché praticamente anche i negozi aprono la mattina alle sette e mezza alle cinque e mezza tirano giù la cinesca non vogliono vedere più nessuno venerdì e sei il sabato sera li dedicano un po' alle uscite diciamo così la domenica stanno in famiglia aspettano che lunedì di ripartire a fare le loro attività io dal punto di vista della Palacanesso sono stato veramente bene una società super organizzata con tante palestre anche nello stesso centro quindi niente devo dire che ci tornerei dal punto di vista della sicurezza nessun problema forse sul piano sanitario hanno ancora un po' da imparare c'è qualche problema sì 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 beh però ci sono delle località stupende assolutamente sì cominciare da Budapest sì Budapest diciamo che è il centro più importante che diciamo l'attività economica si svolge più o meno lì ci sono altre realtà altre città come Misco con la stessa Soprono che magari è un po' più vicina al confine con l'Austria quindi 50 minuti da Vienna per il resto sono realtà non molto grandi ovvio Budapest è il centro e lì è un po' dove si immagina che ci sono 4-5 società di basket femminile e anche di accademie non dimenticherei anche Pecci però è un'altra realtà dal punto di vista della pallacanestro femminile è importante e del resto quando si parla di Europa dell'Est il basket sì sì assolutamente assolutamente fra l'altro anche adesso hanno provato con la nazionale a qualificarsi per le Olimpiadi non sono riusciti per un punto fra l'altro hanno perso in casa e proprio a Soprono dove hanno organizzato il torneo contro il mio amico Michel Mendez che allenava la squadra spagnola che dopo essere stati sotto al terzo quarto anche di 21 punti sono riuscito a portarla a casa quindi credo che lì ci sia stata un po' giustificata delusione perché hanno intravisto le Olimpiadi e invece gli sono sfuggiti di mano ci sono andati vicini sì molto e chiudendo il discorso dell'Ungheria prima si parlava Emiliano dei tre tecnici siciliani Pergolizzi Giustino Altobelli e Mariano Maniscalco del volley maschile di serie B e a proposito di Ungheria un tecnico italiano in diversi anni ha riportato la squadra di calcio maschile dell'Ungheria la nazionale a certi livelli dicevo Giustino si torna all'arena dopo tanto tempo Sesto San Giovanni domenica ore 18 le ragazze vorranno sicuramente riabbracciare il grande pubblico ma assolutamente intanto al di là dell'ultimo mese l'avversario è proprio quello più indicato per per diciamo un po' reagire o comunque riprenderci quello che obiettivamente senza nulla togliere hanno conquistato per le Final Four di febbraio a proposito facciamo i complimenti a Schio si faccio i complimenti a Schio perché è casa mia è la quindicesima è stata casa mia è la quindicesima Coppa Italia io ho partecipato a molte di queste e quindi facciamo i complimenti sicuramente perché continuano a vincere malgrado la concorrenza si sta facendo sempre più agguerrita agguerritissima quindi ancora più merito al fatto che continuano a vincere non è mai semplice e soprattutto quando poi ci sono dei competitor che sono ormai al loro livello quindi niente tornando alla nostra partita è una partita difficile Geas è sicuramente una squadra strutturata negli anni ha costruito questa sua dimensione e quindi per noi vincere sarà importante anche se non sarà determinante alla fine del risultato finale è chiaro che se noi riusciamo a battere mettiamo sia i confronti diretti che i due punti in più nella classifica immediata che potrebbero servirci alla fine per poter provare dico provare a raggiungere un quarto posto che obiettivamente sarebbe un sogno tra l'altro Emiliano non so se sei stato qualche volta a vedere il basket femminile sì assolutamente anche perché ho la fortuna di avere delle alunne al convitto che fanno parte della società una su tutte e anche blanca blanca un'atleta formidabile ma anche un'alunna un po' avanti con l'età è un po' vecchietta sì però una ragazza fantastica sia sul piano sportivo che anche sul piano didattico della scuola lo studio quando non posso andare lo dico sempre le ragazze mi collego da casa con il tablet e vedo sia la serie B che la serie A e ogni tanto faccio anche i complimenti pubblico sulla chat ripeto è un motivo di grande orgoglio anche per la scuola e per me che le ho come alunne avere queste ragazze che comunque si impegnano cercano sempre di dare il massimo sia per quanto riguarda la propria disciplina sportiva ma anche per quanto riguarda lo studio qualche ragazza andrà via quest'anno perché sta frequentando il quinto anno quindi è bello è bello quindi è bello averle a scuola è bello anche vederle poi sui campi perché lo sport è talmente importante e affascinante che qualsiasi cosa si pratica determina una crescita psicofisica dell'atleta a volte si parla di ragazzi di educazione si parla della famiglia si parla della scuola ma io credo che anche lo sport poi volevo anche il parere di Giustino anche lo sport è una palestra di vita lo sport è sicuramente una palestra di vita e spesso deve sostituirsi e alle famiglie e alla scuola nella formazione e anche nell'educazione è un posto dove le ragazzine vengono spontaneamente io scherzando ogni tanto parlando con le ragazzine dicevo voi in famiglia ci dovete stare perché è casa vostra a scuola ci dovete andare perché dovete andare a scuola qui venite per scelta e allora se venite per scelta dovete cercare di dare il massimo perché non ha un senso venire in un posto dove vi piace dove fate sacrifici per venirci e non provare a fare il massimo possibile in tutto questo è chiaro che lo sport è formativo perché costringe a seguire le regole costringe a socializzare dico costringe nel senso tra virgolette perché alla fine è una cosa naturale che chi partecipa a uno sport debba sottostare le regole deve sottostare anche a qualche tra virgolette ingiustizia che può essere un fischio di un arbitro che magari in quel momento non pensi che sia giusto che ti venga combinato però tutto questo è chiaro che fa parte di una formazione che le persone più che le giocatrici si troveranno nel loro percorso di crescita tra l'altro abbiamo appena intravisto Emiliano la rettrice del convitto assidua frequentatrice della Molisana Arena anche gli alunni anche gli alunni vanno il tuo giudizio su quello che abbiamo detto che ha detto anche Giustino sul fatto dello sport come ambiente dove i ragazzi vengono anche educati assolutamente l'ambiente lo sport è un ambiente importantissimo una palestra di vita io penso che comunque per la crescita generale di una persona famiglia sport e scuola devono andare di pari passo perché comunque basta che una delle tre manchi si può diciamo iniziare ad avere delle difficoltà lo sport ripeto quello che ho detto anche prima è aggregazione socializzazione scoperta del territorio ma anche sacrificio perché lo sport è sacrificio lo sport soprattutto in età giovanile toglie tanto toglie il divertimento perché comunque è sempre bello tra amici uscire andare a ballare però molte volte bisogna anche rispettare il proprio corpo perché c'è una competizione c'è un allenamento da affrontare toglie tanto ma da tanto quel tanto che dà non solo in termini di risultati ma anche in termini di educazione rispetto valori ciò che lo sport deve insegnare sicuramente prima parlavi di hai usato il termine divertimento Giustino da interista ieri ho seguito la vittoria per 4 a 0 e ho goduto anche sull'Atalanta dell'Inter non so tu per quale squadra no no ma io sono milanista ma ho pentito sei con Gino seguo molto così alla leggera no sentivo nel post gara alcuni calciatori nerazzurri che dicevano quest'anno stanno andando davvero bene le cose soprattutto perché noi ci divertiamo ecco ora da tecnico ma io guardo il divertimento secondo me è la base del gioco e tutti gli sport sono dei giochi sportivi però perché ha detto così quest'anno ci divertiamo l'anno scorso non era così cioè ci sono troppe tensioni ci sono magari elementi adesso si divertono perché sono 12 punti avanti quindi il problema è relativo si divertono perché probabilmente c'è una condizione che magari è stata anche costruita nel tempo dal punto di vista tecnico-tattico ma che sicuramente è supportata per non dire che sia preeminente dal fatto che il gruppo funzioni perché se funziona il gruppo poi ci si può divertire indipendentemente dal risultato sportivo che ovviamente aiuta però questo vale per tutte le discipline credo assolutamente sì potrei dire anch'io che noi ci stiamo divertendo perché ci sono delle condizioni per cui la giocatrice si trova a suo agio o il giocatore si trova a suo agio in un contesto di gruppo in quanto tale e anche dal punto di vista sportivo quindi tecnico-tattico le cose funzionano per cui meglio di così credo che non si possa chiedere sì 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 stavo vedendo non so se la regia un attimo ci può mostrare la classifica della 1 femminile di basket stavo notando che è vero che sesto ha due punti in più della Magnolia ma anche una partita in più sì sì assolutamente sì noi ripeto dobbiamo provare a vincere questa partita intanto per pareggiare i conti in questo momento perché poi il Gias dovrà riposare e c'è un altro riscatto quello di cui parlavi prima e poi perché comunque avendo vinto già a sesso San Giovanni un'ulteriore vittoria nostra porterebbe al doppio confronto vinto per cui in caso di arrivo a pari punti noi ci faremmo preferire ecco tutto qua prima parlavi di concorrenza agguerrita sono tanti anni che di solito sono tre squadre che lottano per lo Scudetto Schio Bologna Venezia a un certo punto si era inserita anche Ragusa come quarta insomma formazione negli anni passati oggi la vedo un po' più in difficoltà ma quest'anno Ragusa purtroppo è partita male purtroppo per loro ma per fortuna per noi perché siamo partiti meglio noi e così siamo arrivati alla fine del giorno d'andata a un secondo posto a pari punti che era insperato e neanche ipotizzabile è chiaro che adesso Ragusa sta un po' recuperando le posizioni detto questo anche con Ragusa nel caso in cui dovessimo arrivare a pari punti abbiamo la differenza Canesti nello sconto diretto per cui diciamo che non siamo messi così male dobbiamo sostenere questo tipo di di situazione e provare da qui alla fine a cercare di portare più partiti a casa per guadagnarci una posizione nei playoff che in questo momento sorride a noi voglio dire è chiaro che bisogna giocare ancora tante partite e che ci sarà una lotta per le squadre di metà classifica di trovare una posizione migliore nella griglia dei playoff e le squadre che stanno dietro di provare a trovare anche lì di giocare un play out in casa e quindi ci saranno partite molto 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 combattute anche perché le squadre dietro vedo Faenza Sassa Ribrescia la stessa Roma faranno di tutto per provare a quantomeno se non ad entrare in playoff a provare a giocare un play out in condizioni di vantaggio quindi due su tre in casa do la linea per qualche minuto alla regia per la prima pausa pubblicitaria e torniamo tra poco riprendiamo eccoci dopo la pausa sempre con Giustino Altobelli vice allenatore della Magnolia con Emiliano Preziosi docente di scienze motorie del convitto Mario Pagano Emiliano sai che pensavo prima però correggimi se sbaglio perché insomma io seguo un po' tutte le discipline parlando di di lokei e delle varie superfici ho pensato al tennis perché lokei c'è su ghiaccio abbiamo visto questo okei indoor invece sul sintetico pensavo al tennis tennis c'è sull'erba c'è sulla terra rossa c'è sul sintetico le altre discipline invece di solito la superficie è quella quindi pensavo a questo parallelismo sì sì è vero è vero la cosa bella di questa disciplina ripeto è che comunque ha tre specialità okei sul prato dove comunque si gioca anche sul sintetico anche perché prevalentemente adesso i campi sono quasi tutti in sintetico poi okei indoor all'interno delle palestre e poi anche il beach hockey ovviamente a seconda di quale disciplina deve essere praticata cambia il regolamento ad esempio okei sul prato si gioca 11 contro 11 come il calcio tendenzialmente ci sono due porte ci sono 11 giocatori 10 di movimento e un portiere e l'obiettivo è quello di far entrare la pallina all'interno della porta in rete mentre per quanto riguarda lokei indoor quello che abbiamo ospitato con le fasi nazionali fine nazionali a campo basso si riduce il numero dei giocatori quindi sono sei in campo per squadra un portiere e cinque giocatori di movimento l'obiettivo è sempre lo stesso cercare di segnare il gol e mentre il beach hockey che è nato dal 2007 voluto dal presidente federale Sergio Mignardi proprio perché si sa che nel periodo estivo che è pieno di turisti nelle zone di mare attirare l'attenzione del turista attraverso anche uno sport è più facile sai che non l'ho mai visto il beach praticamente è un campo è un campo gonfiabile di solito si mette un campo gonfiabile quindi si gonfiano sia le sponte laterali sia le porte e all'interno ovviamente c'è la sabbia la differenza è che dall'occhio del prato sul prato indoor la palla non può alzarsi da terra se non quando effettua il tiro mentre nel beach hockey praticamente la pallina è più grande e può essere anche alzata perché comunque è difficile gestirla sulla sabbia cambia anche leggermente il bastone perché il bastone ricurvo che si utilizza nel hockey sul prato e nel hockey indoor ovviamente è anche leggermente più pesante mentre quello che si utilizza nel beach hockey è più leggero ed è anche forato la parte ricurva nella profondità del bastone è forato proprio per permettere di far passare la sabbia da una parte ad un'altra proprio per consentire meglio il tocco della palla però è una disciplina che comunque ripeto è bella da vedere chi non l'ha mai vista comunque rimane affascinato prima di tornare a Giustino volevi dire qualcosa Giustino no no che quando cadono sulla sabbia non si fanno male quindi magari ci sono dei vantaggi no Emiliano prima di tornare al coach volevo chiederti questi under 18 poi alla fine ha vinto Padova ha vinto San Giorgio si Padova ho visto anche dei ragazzi davvero dei bambini a che età si può iniziare si può iniziare anche all'età di 7-8 anni è diverso assolutamente ovviamente il bastone le attrezzature è più piccole il bastone è più piccolo però lo scopo è lo stesso la cosa bella è che nell'organizzazione è che abbiamo voluto la presenza dei bambini perché si sa che i bambini fanno fanno rumore e quindi vedere i bambini comunque seguire questa disciplina fare il tifo per le varie società Genova Roma e farsi fare anche gli autografi ogni fine partita vedevi il bambino che comunque andava verso il giocatore che comunque è un ragazzo di 18 anni niente di più niente di meno si facevano fare o l'autografo sulla maglia o su un fogliettino di carta quindi lo sport è anche questo poi il bello è che scendevano insieme ai giocatori in campo perché l'ok ha anche un suo inno ogni partita prima della partita le due squadre si schierano in campo e parte un inno di circa 50 secondi quindi hanno un loro inno e come finisce l'inno il capitano di ogni squadra si pone davanti ai propri compagni e attraverso il proprio motto carica la squadra prima del fischio d'inizio e vedere i bambini prendere per mano i giocatori anche l'arbitro è stato è stato importante è stato bello perché ripeto nello sport secondo me il bambino è il seme per ogni disciplina sportiva anche perché ci vuole sempre il ricambio generazionale quindi partire da quella fascia d'età è fondamentale e anche per questo noi a scuola siamo partiti con la primaria per poter iniziare a introdurre questa disciplina ma ti assicuro prima parlavi di bambini è bello vedere lo sturzo pieno di bambini ma ti assicuro che in una regione come questa non dico tutti i giorni ma un giorno sì o no si parla dei problemi legati allo spopolamento è bello vedere i bambini non so in Sicilia come siete messi Giustino ma guarda in Sicilia abbiamo ovviamente c'è una popolazione maggiore c'è una popolazione maggiore abbiamo più possibilità di praticare sport voi sinceramente mi prendete mi cogliete impreparato sulla vabbè sull'occhi però mi dice che no no parlavo in generale dello spopolamento no dello spopolamento devo dire che ancora regge regge sì è chiaro che ci sono c'è la fuga dei cervelli come la chiamano però sicuramente c'è ancora una tradizione legata al territorio che sta un po' rilanciando l'economia siciliana mi auguro che continui così soprattutto sul punto di vista turistico e anche agroalimentare credo che lì sia la nostra forza e lì bisogna puntare non voglio entrare in polemica riguardo al discorso del ponte perché è proprio una cosa che non ci riguarda ma un qualcosina sul pubblico della Magnolia lo diciamo? è impossibile non come dire notare il calore che c'è all'interno del nostro palazzetto il colore anche il colore il colore sì mi piace l'abbinamento credo che sia uno dei pubblici più caldi e affettuosi sicuramente della Uno Femminile devo riconoscere che anche scrivo al suo pubblico però c'è sempre una differenza di patos e di come dire fervore che è legato anche alle nostre origini più meridionali meridionali nel migliore accesso del termine mi piace perché tu parlavi anche di calore e anche di intensità aggiungo io ma a differenza magari di qualche altra disciplina una a caso il calcio nel basket anche se c'è un pubblico caloroso molto appassionato il tutto avviene sempre nella correttezza assolutamente almeno parlo di Campobasso ma credo di parlare in tutte le piazze in generale non ci sono mai stati episodi di intolleranza o di violenza che so io sicuramente il basket femminile ma anche quello maschile devo dire è un pubblico molto molto educato competente e poi io onestamente devo dire che se devo dire che giochiamo in casa è veramente giocare in casa con un pubblico così confermi Emiliano è la verità poi è una bomboniera l'arena Magnoll Arena bellissimo un impianto bellissimo e il pubblico caloroso giustamente molto educato sia tra tra il pubblico ma anche nel tifo per una squadra per una società avere al seguito tutti questi tifosi è importante perché comunque la cornice di ogni sport è rappresentata dal pubblico senza pubblico anche gli stimoli per gli atleti vengono meno quindi si carica di più l'atleta si carica di più l'allenatore si carica di più anche la società è tutto un contorno che è importante avere abbiamo assaporato ma amaramente quello che vuol dire giocare senza pubblico durante il lockdown esatto l'abbiamo vissuto tutti quanti ed è stato bruttissimo sia vedendo da casa ma soprattutto per coloro che comunque dovevano affrontare delle partite io penso che non ha lo stesso effetto come se ti manca qualcosa e la grinta è come se viene meno il pubblico è importantissimo quindi per ogni disciplina sportiva poi come dicevi tu a differenza del calcio basket palla a volo il pubblico è sempre molto educato aggiungerei anche rugby rugby sì tante altre specialità occhi sul prato tennis abbiamo purtroppo il calcio ha questa defezione che ancora non riesce a però si è preso questa etichetta vuol dire che ci sono stati episodi di garia assolutamente assolutamente quindi c'è bisogno di un cambio anche nello sport del calcio che poi non si sa il motivo perché uno dovrebbe andare allo stadio dandosi la mano pure col tifoso dell'altra squadra invece in molti stadi non si possono neanche guardare perché c'è il rischio che poi possa succedere qualcosa tra l'altro spesso ci sono oppure mi è capitato di seguire una squadra e mi è capitato di vedere tifosi della squadra ospite nel settore dei tifosi della squadra locale e vedere adulti che minacciavano bambini che stavano con la propria famiglia e sono brutte brutte cose quelle sono brutte cose il calcio dovrebbe prendere esempio da queste altre discipline tra l'altro Giustino parlando di porte chiuse qualche partita l'ho vista a porte chiuse anche prima del covid nel calcio ma per quanto riguarda gli altri sport il basket il volley non mi era mai capitato quindi è stato proprio il covid che ha fatto capire a porte chiuse anche in questi sport in queste discipline generalmente le porte chiuse avvengono solo se ci sono dei casi disqualifiche oppure di incidenti gravi provvedimenti del giudice sportivo o i tifosi o i dirigenti delle società era un provvedimento di un altro giudice il virus per giocare a porte chiuse si è dovuta creare una situazione fuori dal normale che ha costretto in quel periodo a giocare senza pubblico è chiaro come diceva Emiliano che il pubblico fa parte del gioco è stimolante e non è solo una cornice spesso partecipano e per i protagonisti è essenziale che ci sia infatti durante alcune gare molti atleti hanno ripetuto spesso non ha senso giocare senza il pubblico abbiamo ancora qualche minuto farei un giro conclusivo intanto vi ringrazio per essere stati in questi studi in questa trasmissione grazie a voi per l'ospitalità è sempre un piacere poi del resto rivendico questa cosa è l'unico programma in Molise anche se ci vediamo anche in Abruzzo da un anno e mezzo è l'unico programma in Molise che parla anche di altre discipline in modo piuttosto diciamo cospicuo ecco Emiliano è da ripetere questa questa esperienza dell'hockey assolutamente da ripetere speriamo di partire anche che la federazione possa partire con una società vera e propria in più potrebbe esserci la possibilità qui lo dico qui lo nego che d'estate si possa fare l'evento del beach hockey quindi anche lì sulle nostre spiagge potrebbe essere un altro modo per avvicinare il pubblico a questa disciplina farla conoscere e iniziare quindi a capire di che cosa si tratta perché poi è una disciplina come tutte le altre solo che ovviamente come ogni disciplina si sviluppa di più in alcune nazioni per esempio questa è una disciplina che è nata in Inghilterra intorno al 1863 poi man mano si è diffusa in tutto il mondo e viene praticata in tutti i continenti all'incirca in 120 stati per esempio in Europa quelle che fanno parte sempre dell'elite mondiale dell'hockey sono Germania Olanda e Inghilterra insieme poi a Pakistan India Australia Nuova Zelanda Argentina quindi comunque è praticata solo che in Italia purtroppo non è ancora ben vista come una disciplina vera e propria e sicuramente anche a livello economico non riesce a portare tanto perché possiamo dire quello che vogliamo ma comunque l'aspetto economico per una società è importantissimo per poter andare avanti quindi l'obiettivo è quello di cercare di creare una società e farla praticare il più possibile e farla conoscere un po' tutti quanti due parole Emiliano sul convitto Mario Pagano che è un vero gioiello e tra l'altro incastonato anche in un giardino splendido Sì è il fiore all'occhiello della città secondo me chiunque viene rimane colpito anche quando abbiamo fatto le convittia di le delegazioni che sono venute ma chiunque entra in quella struttura storica sia entrando ma sia vedendo dall'esterno rimane affascinato poi ha un tocco importante durante le luminarie ed è una scuola che è cresciuta tanto in questi cinque anni grazie al Rettore abbiamo fatto tantissime cose sul piano didattico ma anche sul piano sportivo perché ripeto le convittia sono state un evento bellissimo da poter ospitare per la prima volta a Campobasso durante il Covid quindi c'era ancora l'aggravante del Covid siamo usciti alla grande quindi con un piano ad hoc ed è bellissimo siamo cresciuti anche come iscritti negli anni in questi cinque anni speriamo di continuare così speriamo di dare sempre il massimo per gli alunni per le famiglie perché poi la scuola ripeto è fondamentale così come lo sport per poter sviluppare a 360 gradi a formare l'individuo e sono contento stasera perché sono decenni che c'è questa trasmissione ma è la prima volta che abbiamo fatto vedere immagini di hockey quindi c'è sempre una prima volta c'è sempre una prima volta ecco Giustino come vedi la gara di domenica ricordiamo invitiamo soprattutto ore 18 la Molisana Arena è il palazzetto che è di fronte allo stadio di Selva Piana quindi Magnolia Sesto San Giovanni che gara sarà secondo te? sarà sicuramente una gara combattuta sarà una gara molto calda e invito tutti i tifosi a venirci a sostenere perché dobbiamo far capire che non sarà semplice passare sul nostro campo vogliamo ricominciare a vincere vogliamo provare ad arrivare più in alto possibile spero che riusciamo a farlo ma sicuramente abbiamo bisogno del sostegno dei nostri tifosi e non solo del tifo organizzato se non altro ma se non anche per le altre persone che vengono a seguirci sarà molto importante che la nostra gente ci spinga fino in fondo un'ultimissima cosa Giustino come stanno le ragazze dal punto di vista fisico poi tra l'altro tu all'inizio della trasmissione parlavi della lunga sosta Mimmo questo diceva io odio le lunghe soste ho paura di questi periodi di inattività agonistica molto lunghi ma sicuramente non aiutano però siccome non è stata una cosa che abbiamo potuto scegliere l'abbiamo subita penso che l'abbiamo gestita gestita anche bene nel migliore dei modi è chiaro che non è semplice riprendere però il fatto che abbiamo già giocato due amichevoli con Roma una qui e una a Roma la settimana scorsa e il fatto che la motivazione e il livello della partita ci darà una motivazione in più a riprendere in maniera consistente credo che la partita noi la giocheremo fino in fondo domenica bene in bocca al lupo ci vediamo domenica vive il lupo alla Molissana Arena bravo viva il lupo bisogna dire non credi l'abbiamo cambiato con il tempo questa abitudine perché no 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 è bello dire viva il lupo era un detto ormai consolidato obsoleto a ragionarsi bene esatto e allora io ringrazio Emiliano Preziosi docente di Scienze Motorie del Convitto Mario Pagano grazie grazie a te grazie a voi per l'ospedalità ringrazio per domenica Giustino Altobelli grazie grazie a voi è un cognome interista sai che abbiamo fatto un collegamento Skype di un'ora qualche tempo fa con il mitico spillo mi ha inseguito per tutta la vita questo cognome quindi dicevo grazie a Giustino Altobelli vice allenatore della Molissana Magnoglia Campobasso grazie a voi grazie ancora non andate via dopo la pausa parleremo di calcio di serie D di eccellenza di promozione a tra poco bene seconda parte di Zona Sport parleremo di calcio durante questa seconda parte vi presento subito gli ospiti ringrazio accanto a me Pasquale Damiani grazie Pasquale grazie grazie a te direttore editoriale di Teleregione Canale 17 grazie a Pasquale con la Russo ex assessore allo sport del comune di Campobasso buonasera Pasquale grazie a te grazie ringrazio il difensore del Baranello ma con tante esperienze anche in categorie superiori Luca Cappelletti grazie Luca ciao Francesco buonasera a te grazie a te allora Pasquale inizierei a parlare insomma dell'Isernia intanto vediamo il servizio del direttore Pierluigi Boraggine e poi torniamo in studio Traisci Vattene il messaggio apparso a Isernia all'indomani dell'inaspettato pareggio casalingo della squadra bianco celeste contro il San Pietro in Valle è quanto meno ingeneroso nei confronti di chi ormai da quattro anni foraggia il club senza chiedere nulla in cambio e sì perché Francesco Paolo Traisci utilizza risorse proprie per allestire squadre competitive che pur non centrando l'obiettivo finale sono sempre riuscite ad offrire uno spettacolo gradevole ma c'è dell'altro molto altro se i risultati sportivi non sono esaltanti Isernia si è contraddistinta in una gestione oculata che ha rispettato sempre gli impegni nei tempi e con chiunque nessuno infatti può sostenere di avanzare un solo euro dal club bianco celeste il presidente Traisci che di professione non fa l'impresario del calcio ma il professore universitario ha dato a Isernia la patente di serietà che per molti anni la società aveva smarrito diciamola tutta al di là di Perna Monfreda Mazzocco Biscotti e Mariani per non andare troppo indietro nel tempo persone onorabili che hanno fatto il bene del calcio bianco celeste nel capoluogo si sono succeduti faccendieri che hanno accumulato debiti risanati poi da altri e fatto parlare di Isernia con un'accezione totalmente negativa insomma le critiche da parte dei tifosi ci stanno e sono più che legittime del resto se una squadra ha un budget importante per vincere e per tre volte consecutive forse quattro arriva a seconda un problema c'è e andrebbe affrontato e risolto ma è altrettanto vero che vincere non è facile lo si vede a tutti i livelli anche nel calcio professionistico e allora vanno bene le contestazioni civili come hanno sempre fatto i tifosi pentri le giuste dimostranze ma invitare il presidente Traisci a cambiare aria è inopportuno e ardito coraggioso sì perché dietro l'angolo non c'è nessuno e il dopo Traisci potrebbe essere il nulla cosmico allora questo è il servizio del nostro direttore Pierluigi Boraggine Pasquale il pareggio l'ultimo pareggio 3 a 3 dell'Isernia ha deluso molto i tifosi e tra l'altro ha modificato ulteriormente la classifica è un risultato che complica la vita alla compagine Bianco Celeste perché lei la squadra è attesa dallo scontro diretto con l'Alto Casertano nel 12 aprile mi pare quindi deve arrivare lì quantomeno sperare di arrivare lì con tre punti ma sarà difficile perché prima di arrivare alla trasferta di Pietra Velara c'è la trasferta di Venafro e Venafro quando gioca con l'Isernia gioca col sacco agli occhi si dice la rivalità tra le due squadre tra le due tifoserie c'è stata da sempre per cui se l'Isernia dovesse pareggiare anche a Venafro e allora il campionato sarebbe bello e finito ma il problema io mi chiedo perché l'Isernia spumeggiante nella prima parte della stagione perché la giugno è andata l'Isernia con gli argentini ha fatto un calcio spettacolo io ho visto tutte le partite casalinghe e un paio di partite in trasferta a Casteldisangolo e poi l'ultima proprio a Capiati a Volturno con il sesto campano l'Isernia gioca a memoria un gioco fatto di triangolazioni veloci dalla cintola in su una squadra che doveva solamente stravincere il campionato ma si è trovata ad avere questa bestia nera nel San Piativale la gara è andata vabbè ci fu quel grosso svarione del portiere che fu all'ultimissimo minuto si trovava fuori dall'area di rigore e quindi fu sorpreso in un modo rocambolesco e perdemmo la partita ma mi domando e chiedo perché la squadra che giocava così bene ad il riso stagione ora si trova un po' a giocare in pacciata e poi la cosa strana è che domenica l'allenatore ha tenuto fuori squadra giocatori fortissimi mi riferisco a Flores a Lopez a Babba che poi ha fatto entrare quando la frittata era già bella e compiuta ma quando poi la squadra si trova in difficoltà psicologica e con l'altra squadra che seppur in tenuta tecnica certamente molto inferiore all'Isernia ma si è ringaluzzita dal 2 a 2 allora è successo poi nel finale vabbè 3 a 2 3 a 3 insomma questo po' il calcio può succedere ma io ritengo che l'allenatore che è un bravo ragazzo ha la sua prima esperienza quindi gli auguro ogni bene però credo che non abbia saputo gestire bene la squadra dall'inizio legione di ritorno il pareggio con la Turis con la Virtus Gioiese poi domenica con la San Pedro di Valle denota proprio un qualcosa che non ha funzionato nello scacchiere bianco celeste non si può privare l'Isernia del gioco di funambolici argentini che sono giocatori di categoria superiore fare entrare al loro posto giocatori che non hanno il senso della triangolazione veloce della verticalizzazione questo ha comportato un qualcosa che ha fatto inceppare il gioco dell'Isernia e poi c'è qualche problema anche in difesa con il portiere che più delle volte non è immune da colpe e purtroppo questo è accaduto ma l'Isernia poteva vincere anche tutte le partite che ha pareggiato tranquillamente bastava un po' di attenzione in più e soprattutto la fiducia degli argentini perché se non giocano gli argentini l'Isernia è una squadra come tutte le altre Pasquale mi veniva anche da pensare è una cosa anche particolare e strana l'Isernia è l'unica squadra imbattuta perché l'Aurora ha perso una gara e si ritrova a tre punti perché sono i quattro pareggi che stanno pesando i pareggi sono come se fossero sconfitti con la vittoria a tre punti è cambiato non esiste le partite si devono vincere l'Alto Casertano che è certamente una squadra ben omogenea c'è un allenatore che è esperto gioca anche lui quindi è un allenatore giocatore dà anche quella spinta in più alla squadra in mezzo al campo perché la dirige proprio all'interno del campo ha dimostrato di fare pochi svarioni nel girone di andata ha vinto delle partite si suol dire all'ultimo respiro quindi negli ultimi minuti però è riuscita a vincere è rimasta sempre a galla quindi attaccata l'Isernia addirittura un certo punto l'ha anche superata a seguito dei due pareggi dell'Isernia poi lo scontro diretto al campo di Isernia ha consentito all'Isernia di ritornare di nuovo in testa alla classifica ma i due ultimi pareggi con la Turis e con il San Piedimballe denotano che qualcosa non va proprio nella scelta tecnica dell'allenatore dei giocatori quindi i giocatori sono forti l'allenatore mi dispiace rilevarlo è bravo ma forse manca di quell'esperienza necessaria per poter vincere un campionato ecco Lino ti chiamo Lino Pasquale insomma Lino anche per distinguerti dal nostro Pasquale Damiani i tifosi lo dicevamo prima a microfono spento sono particolari hanno anche ragione però a volte non pensano che come diceva anche Pierluigi Borragile nel servizio potrebbe usiamo il condizionale non esserci un futuro se vi attraisci tu hai anche amministrato ed eri assessore allo sport ogni mondo è paese quindi nel senso che comunque in tutti i contesti i tifosi al minimo sbaglio tra virgolette contestano e un presidente che comunque sono quattro anni come diceva il direttore nel servizio e comunque ti ha fatto vedere la sforza dei riseni secondo me sta a trovare in questi due anni il campo basso l'anno scorso e l'alto casertano poi è una persona che ha sempre mantenuto tutti gli impegni e quindi voglio dire il professor Traisci comunque non è l'ultimo arrivato quindi perdendo Traisci se veramente c'è il nulla sì parliamo da tifoso però poi il tifoso nel momento che vede che il calcio come è successo al campo basso che il calcio non si riparte dalla promozione si riparte dalla dalla prima o seconda categoria penso c'è l'altra squadra di segna però adesso sono discorsi prematuri questi e quindi i tifosi comunque siamo particolari quando quanto siamo tifosi però come diceva il direttore prima che voglio dire il gioco il gioco è quello non si può prescindere dagli argentini c'è tutte queste belle cose e poi alla fine hai perso hai fatto con pochi pareggi voglio dire non hai avuto una sconfitta con pochi pareggi è una bella squadra io singolarmente è forte l'isernia quindi sarà colpa dell'allenatore tra l'altro la squadra è meno perforata meno perforata ha subito meno gol dell'aurora non l'ha mai perso questo fatto dell'isernia ma guarda io mi ricollego sia al direttore sia a Pasquale purtroppo tanto può dipendere dall'annata calcistica dei giocatori tanto può dipendere dall'annata ovviamente societaria io il professor Traisci ho avuto il piacere di conoscerlo in quanto due tre anni fa stavo in eccellenza col campo di pietra è una persona che comunque ci tiene ci tiene tantissimo e dispiace perché poi ovviamente vedere queste scene in un campionato regionale non fa mai bene sia ovviamente alla città e non fa bene neanche ovviamente agli stessi giocatori e alla società a me dispiace per l'isernia perché è una piazza importantissima ha fatto anche la C2 ha fatto la C2 certo ha fatto la vecchia C2 ha fatto tanti anni serie D ha fatto ovviamente molti anni campionati regionali ma è una piazza che secondo me l'eccellenza li va un po' stretta ma non ti leggo il fatto che è brutto a dirlo ma una città come Isernia avere due squadre in un campionato regionale a sto punto fate una squadra unica con più imprenditori e ovviamente andate avanti per questa per questa strada però ovviamente sono scelte che ovviamente dipendono secondo me neanche e soprattutto da una gestione politica che diciamo è un po' errata è un po' sbagliata tutto qua dispiace perché ovviamente l'Isernia come ho detto anche prima capologo di provincia poi come dicevi tu ha fatto la vecchia C2 tanti anni in serie D non merita di restare ovviamente in eccellenza ecco Pasquale poi c'è un altro problema che spesso lo ripetiamo hai fatto anche tu dei servizi il campo ma lì è un campo di patate quello ormai non c'è più drenaggio ma andava fatto il lavoro a maggio dello scorso anno quando era finito il campionato poi si è corso a ripari cercando di mettere un po' di semine in mezzo al campo ma basta che piove che lì diventa una palude è impossibile giocare ma anche quando poi è asciutto il treno di gioco il pallone rimbalza in modo irregolare per cui è difficile a uno che ha un po' di tecnica giocare a pallone quindi quelle squadre che sono dotate di meno tecnica riescono a prevalere addirittura sul gioco dell'Isernia io non so giustamente i tifosi dicono si lamentano noi non possiamo giocare un campionato a Cerro Volturno dispiace perché giocare a Isernia sarebbe differente ci sarebbe molto più gente l'Isernia purtroppo ha questo problema io mi auguro che l'amministrazione comunale la frittata è fatta speriamo che da maggio appena termine il campionato lui qui il campo va rifatto da capo ma io sarei anche d'accordo nel fare un semisintetico dicono il campo è un campo coni siamo d'accordo allora l'atletica leggera svolge il 99% dell'attività sulla pista di atletica solo lo 0,1% quelle gare che si disputano su lì che sono il lancio del martello il lancio del giavellotto queste qui si allenano tra i quattro ragazzi allora allenandosi intanto no perché ogni lancio ci sarebbe una buga e poi si sarebbe punte da capo allora creiamo una zona lancio alle spalle della porta poi solo nelle competizioni ufficiali non è che uno vuol vietare ai ragazzi che disputano queste attività tipo giavellotto lancio del martello lancio del disco di non fare sul campo di carri allora sì in quelle poche gare sì altrimenti ecco l'olimpico adesso che terminerà il campionato l'ho letto proprio sul Corriere dello Sport l'altro giorno è anche lì il campo Coni un campo importantissimo dove si disputano tante gare anche di altrettica leggera si fanno anche concerti quindi per evitare che ormai il terreno rigioca anche lì il ridotto maluccio allora si è pensato di fare un semisintetico che sarebbe la cosa migliore poi ricordiamoci che io ho visto il servizio di Pierluigi che i tifosi sono incomiabili perché seguono la squadra ovunque sono il dodicesimo uomo in campo senza soprattutto i giovanotti i ragazzi gli ultas che fanno folklore insomma con quel tifo caldo che hanno loro dispiace anche per loro sicuramente se la sono preso col presidente ma io vorrei dire a loro perché poi sono ragazzi che simpaticissimi che la colpa non è del presidente il presidente sta facendo tanti sacrifici allora se qualcosa si è inceppato la causa va ricercata altrove e non certo nel presidente che sta facendo tanti ma tanti sacrifici e poi ho scritto anche il mio articolo l'altra settimana sul primo piano Molise ho detto ho pensato ho fatto una riflessione tra me e me ma è mai possibile che l'Isenia sono quattro anni ha perso una finale qui a Campobasso con l'Alto Casettano squadra campana ai rigori l'Alto Casettano sta per vincere un altro campionato qui ha vinto il Matese il Piedimonte ma ci sono un campionato ma perché non c'è un'autonomia piena cioè noi abbiamo fatto tanto per ottenere l'autonomia io ricordo quando ero ragazzo ho giocato anch'io con l'Isenia fino a una certa età poi l'università mi ha tenuto lontano dai campi di calcio ma noi giochiamo nel campionato campano di promozione dove era impossibile giocare c'era un clima infernale e non vedevamo l'ora di tirarci fuori purtroppo dice anche il presidente di Chistinzi ottima persona ha fatto tanto per il calcio molisano ha creato strutture una sede eccezionale però io sono contrario per quanto mi riguarda con tutto il rispetto per le squadre campane che debbano venire qui perché caro Franco devi sapere che per vincere sono anche quelle pugliesi poi ma per vincere un campionato campano di eccellenza occorrono 3-4 volte cifre superiori a quelle che occorrono per vincere un campionato qui con 200.000 euro se si sa gestire bene il campionato si vince si vince questo è il problema poi adesso dicono che si tornerà a giocare di nuovo a disegna ormai il campo è quello che è prendiamoci quello che vogliamo ma ormai credo che la frittata è stata fatta domenica mi auguro che avvenga il miracolo perché mi auguro che si arrivi alla sfida diretta con l'Alto Casertano con tre punti perché se poi dobbiamo perdere dovessimo perdere qualche altro punto fra domenica guionese oppure col venafro allora il gioco intanto nel prossimo turno sabato c'è la gara dell'Aurora l'Alto Casertano a Campomarino e non sarà una gara difficilissima non sarà difficilissima ormai l'Alto Casertano le partite difficili le ha affrontate aspetta solamente l'Isernia perché domenica scorsa ha battuto il venafro in modo facilissimo 3 a 0 facile facile quindi non vedo dove possa perdere punti è l'Isernia che mi preoccupa perché o ritrova l'entusiasmo dei giorni migliori ma soprattutto l'allenatore capisce che deve avere un 11 titolare quello che ha divertito fino alla fine del giro di andata quando lui ha cambiato schema tattico eliminando qualche ci sono state cinque giornate di squalifica a un giocatore che hanno penalizzato anche l'Isernia ma se lui non mette inizialmente un 11 composto soprattutto dagli argentini sono due perché tenere in panchina agli argentini è anche Babba che è bravo è un controsenso dal mio punto di vista certo intanto mentre Pasquale Damiani parlava la regia ci mostra al lato sinistro la classifica giornata del campionato di eccellenza domenica sabato e domenica si gioca la ventitresima giornata Lino in Molise a parte la Valle d'Aosta è l'unica regione che non ha una squadra nel professionismo c'è questo Campobasso che è primo in classifica tra un po' vedremo anche qualche intervista ai tifosi che sono molto soddisfatti in questo periodo però ricordiamo che mancano ancora 10 giornate Pasquale non ha una squadra nel professionismo in questo voglio dire ci dobbiamo fare qualche domanda gli investitori perché dovrebbero venire a investire nel Campobasso nel Molise cioè non c'è non c'è attrattiva purtroppo dico io e il rizzetta della situazione ce lo dobbiamo tenere stretto adesso piaccia non piaccia ce lo dobbiamo tenere stretto ma questa è una cosa dai tempi io ho gestito il momento di Capone voglio dire la stessa cosa non è fidata bene gli è stato promesso qualcosa politicamente parlando e lui perceve perché altrimenti perché da Montella devi venire a Campobasso a farti divertire voglio dire quindi gli è stato promesso qualcosa perché lui aveva un'impresa edile ma quello non è stato non è stato quello che è stato promesso non è stato mantenuto e quindi Capone voglio dire vabbè ha vivacchiato nella serie di e poi è finita male l'avventura sportiva calcistica ma è finito male anche anche lui il presidente con problemi giudiziati purtroppo sì e quindi la squadra del professionismo speriamo questa però è tornato ora l'entusiasmo alla grande sì alla grandissima proprio domenica all'Avicors Stadium c'erano praticamente più di 3.000 spettatori parlando di meno io dopo Gesùè dopo quello che è successo con Gesùè comunque io anche essendo tifoso da sempre del campo basso mi sono allontanato ma perché proprio delusione veramente veramente importante anche per come è successo per come è successo cioè gente allora tutto poteva capitare in tutte le parti una cosa del genere però bisognava ridare che io vedo persone che non vengono allo stadio perché 2-3 abbonamenti fatti e non restituiti bastava che in qualche modo venissero restituiti degli abbonamenti ormai è successo di chi è la colpa non lo so ma è successo ne usciva veramente l'ex società pulita almeno ma c'è stato una disonestà chiamo io anche se forse è una brutta parola perché disonesti sono altri ma una disonestà sportiva cioè tu non ti hai mai visto che tu fai gli abbonamenti nel mese di maggio voglio dire per la stazione successiva no è la prima volta è la prima volta penso nel mondo non lo so la della Juventus che fa e in buona fede i tifosi del Campobasso sono cascati nel canello perché forse qualche lampadina si doveva pure accendere perché hai fatto un bel camionato di Serie C ma qual era il problema l'unico anno che noi abbiamo sempre turbolato per essere l'iscrizione si fa non si fa era l'unico anno che non c'erano problemi ma a parte maggio ma sai iniziare la campagna abbonamenti quando non si sa nemmeno se la squadra poi si iscrive al campionato ma non c'era nessun sentore veramente tutti ci sono caduti ma vogliamo parliamo di secondo me il Campobasso in Serie C potrebbe avere tranquillamente 5-6 mila spettatori è questo il nostro il nostro target perché più di questo da sempre però scusa se ti interrompo ma quando c'era per esempio Delmo Berardo presidente veniva identificata un po' la Campobasso il localismo diffuso proprio per cui la gente allo stadio si legava e male che vada a Delmo Berardo faceva 4-5 mila spettatori a partita poi sono stati anche picchi di 13 mila persone l'ultima partita col Tanto ricordo che ci fu un'apoteosi finale però a Delmo ha portato giocatori che sono andati in Serie A nel senso ha preso il blocco della Serenitana ha preso il blocco dell'Avellino calciatori importanti cioè l'occhio vuole pure la sua parte questi che si stanno dimostrando ottimi calciatori ma non li conosceva nessuno voglio dire quindi dove andiamo e quindi io ripeto parlo di me grande difusore del Campobasso con la San Benete sono andato la prima volta allo stadio non mi sono abbonato e sono andato la prima volta allo stadio è convenienza non è convenienza se il Campobasso dovesse tornare in C tornereste ma assolutamente come me secondo me faremo 3-4 mila abbonamenti ma secondo me senza nessuna nessuna tu stai seguendo anche il Campobasso a parte il Baranello dove giochi insomma siete i primi in classifica come la vedi mancano 10 giornate Luca guarda io prima parlavamo pure a microfoni spenti io penso che il Campobasso ad oggi rispetto al Campobasso di gestione Gesue la squadra era molto molto forte ad oggi cosa manca al Campobasso manca la punta la classica punta che ti dà diciamo fiducia che ti dà tranquillità che ovviamente butta la palla dentro però ha dei giocatori dalla difesa diciamo al centrocampo che comunque sono esperti e parliamo di Maldonado Maldonado che sta facendo il capocannoniere tra poco del Campobasso e di conseguenza ha avuto esperienze in Serie A tra Catania e Chievo e quindi dà quelle esperienze in più al Campobasso alla squadra allora la San Benedettese ad oggi non ha secondo me una squadra una rosa ha deluso un po' ha deluso ha deluso ha fatto un calcio mercato un mercato di riparazione ha preso a bontà che stava a Gubbio in Serie C e è andata a San Benedetto però da quello che sto vedendo sta giocando anche poco quindi non sta giocando e l'importante è arrivarci lì ad oggi con la stessa classifica di oggi nel senso che arrivarci con due punti eh ma stiamo parlando di aprile mancano ancora tante giornate però ovviamente abbiamo l'Avezzano in casa che è un'ottima squadra e non dobbiamo perdere perché lì abbiamo perso lo stesso Tivoli fuori casa in casa è una buona squadra quindi dobbiamo vincere ovviamente queste partite qui con le piccole con le grandi Chieti Avezzano vincerle e arrivare lì pronti e poi giocarsi fino alla fine io spero da Campobassano per Campobasso salga in serie C tra un po' vedremo delle interviste ai tifosi c'è molto entusiasmo Pasquale domani conto alla rovescia ore 21 naturalmente su Teleregione canale 17 possiamo dire che c'è l'Otito e ha detto qualcosa anche puoi anticiparci un qualcosina sì io ho registrato l'intervista che l'Otito Genni Medi mi ha concesso a Roma nel suo studio al Senato un'intervista che dura 50 minuti e con lui ho affrontato anche perché si vociferava il problema anche dell'acquisto di L'Otito del Barletta allora sono partito prima ma lei ha provato mai ad acquistare il Campobasso presidente L'Otito ha detto sì io la mia proposta rizzetta gliel'ho fatta però mi è stato detto di no quindi non è di mia proprietà quindi mi è stato detto così io ho poi lasciato perdere però sarebbe stato interessante se l'Otito avesse preso il Campobasso perché lui voleva fare un po' una società tipo la Sarenitana una società satellite quindi l'Otito può avere miglia difetti però i risultati li ottiene li ha ottenuti con la Sarenitana soprattutto ha salvato la Lazio dal baratro perché ricordiamo che nel 2004 quando l'Otito ha preso la Lazio era indebitata fino al collo e lui un po' anche con lo spalmadebite è riuscito negli anni a sanare questo debito che la società aveva ed ora la società è quotata e soprattutto ha un parco giocatori che va sui 500 milioni sta facendo la Champions no e soprattutto sta facendo dignitosamente la Champions ha avuto i soldi problemi con i tifosi vabbè ma comunque tutti i presidenti un po' vulcanici hanno i loro lati positivi e negativi però lui ha detto sì io ho tentato di prendere un nel campo basso e poi ho detto anche ma è vero che lei adesso vuol prendere Barletta ma siccome lì con lui c'era anche il senatore che è di Barletta Dario Damiani che è un mio omonimo probabilmente l'avrò fatto più per accontentare il suo amico perché sono molto amici ma non credo che poi alla fine possa rilevare Barletta certo mi sarebbe piaciuto vedere un po' Lottito fare qui a Campobasso quello che ha fatto con la serenità magari sarebbe stata bella una collaborazione domani sera ore 21 conto alla Rovescia Lino ci vediamo un attimo le interviste ai tifosi nel post gara con Soro e poi torniamo in studio come hai visto Massimiliano questa gara oggi una partita senza storia un Campobasso che ha dominato che se avesse vinto altri con cinque gol non avrebbe rubato niente Soro che non ha fatto niente inesistente peccato peccato che il Riccione ha subito il pareggio al 95esimo pensavamo di aver fatto il colpaccio però abbiamo tempo 10 partite al termine ce la può fare il Campobasso sicuramente sicuramente sì e conto di arrivare con 4 punti contro l'assemble di Nettese oggi ci eravamo quasi riusciti bella squadra bello mi piaciuto il Campobasso e veramente bello bella partita e bello tutto ecco un risultato mai in discussione mai 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 veramente grande allenatore chi le è piaciuto di più in campo penso Coghen secondo me è la marcia in più in questo momento a questo punto scontro per la promozione Samba in dettesa Campobasso penso proprio di sì fino alla fine ma penso che ce la faremo anche il Parigi entrebbe bene a noi giudizio su questa vittoria è superlativo il Campobasso al 100% vinceremo il campionato ecco la Samba ha vinto proprio all'ultimo minuto a Ricciò Cosbardella purtroppo ci sta è il bello del calcio ci rifaremo domenica prossima andremo a più 5 ecco comunque è un campionato diciamo molto equilibrato perlomeno per quanto riguarda le due o tre squadre che sono lì sicuramente molto equilibrato è bello dello sport migliore in campo oggi? direi Coghen la vittoria diciamo netta però il campionato è ancora lungo mancano 10 partite e la San Benedettese abbiamo saputo che ha vinto nel rush finale l'ultimo minuto magari ci siamo un pochino illusi del vantaggio dei 4 punti però non dobbiamo mollare oggi vittoria senza vittoria oggi senza troppe sofferenze diciamo si si senza ombra di dubbio meritatissimo chi ti è piaciuto di più? ma il solito Di Nardo che lotta su tutti i palloni è chiaro è mancata il centrocampo di Maldonato si è sentita la mancanza del centrocampo è una vittoria importante peccato per il 3 a 2 della Samba al 95esimo ma va bene così l'importante è che abbiamo vinto noi questo è un po' il pensiero comune la vittoria della Samba alla fine eh sì ci ha lasciato l'amore in bocca stavamo già pregustando i quattro punti va bene uguale basta che abbiamo vinto noi d'accordo col presidente che dice dieci finali dieci partite dieci finali insomma ogni partita è una finale a questo punto sì purtroppo è così è una la verità sembra scontato ma è così è la verità forza Aururi e forza Lupi sempre molto soddisfatto la squadra ha giocato molto bene siamo contenti di essere i primi tutti dicono peccato per quello che è successo a Riccione all'ultimo minuto eh sì è un peccato però il campionato è ancora lungo abbiamo la possibilità di continuare così e fare bene ci credi che questa squadra può vincere il campionato certo assolutamente abbiamo i giocatori giusti direi che il campo basso ha meritato di vincere non c'è stata diciamo partita sul piano tecnico è stato superiore cambiato un po' l'umore dei tifosi ora davvero ci credono alla promozione beh c'è un'atmosfera veramente di entusiasmo quello che mi è piaciuto di più vedere a fine partita i calciatori fermarsi sotto la curva ma firmare anche palloni per i bambini ho visto il portiere esposito che ha regalato i guanti ai bambini un bel un bel gesto che avvicina sicuramente di più le famiglie al calcio di campo basso ho visto veramente la curva con molte famiglie e questo è un segnale molto molto positivo dell'entusiasmo che si comincia a respirare di nuovo in città un giudizio su questa giornata anche sulla vittoria alla fine della Samb fa piacere ah no quella no quella non fa piacere è un peccato perché potevamo andare quattro punti sopra e insomma potevamo avere uno shot in più una partita da poter sfruttare al nostro vantaggio è andata così pazienza ci rifaremo a casa loro ora la squadra diciamo ha un atteggiamento diverso mentale molto più convinta delle proprie possibilità ma personalmente trovo che anche l'innesto di alcuni giocatori tipo Koken mi è piaciuta molto questa mossa del mister credo che quella sia stata la cosa più intelligente forse da fare anche sul 2 a 0 insomma i giocatori nel campo basso hanno dimostrato una vitalità su ogni pallone quindi non appagati del 2 a 0 sì alla fine anche ho visto anche una tenuta fisica migliore effettivamente al novantesimo correvano ancora questa cosa ci fa ben sperare per il futuro ottimista sulla vittoria del campionato quello andiamo un po' per volta dai vediamo di partita in partita speriamo per il meglio però non diciamo niente per il momento siamo scaramantici questi gli umori un po' del campo basso Luca siete i primi in classifica parliamo del baranello però lo sai che tra tutte le quattro squadre che sono più al vertice poi non so se possiamo vedere un attimo la classifica siete quella che ha segnato meno siamo segnato meno ma siamo anche la miglior difesa quindi siamo una squadra come pensai Montenero però ha subito 22 gol Baranello 26 sì alla fine stiamo lì ce la giochiamo 1 e 2 l'unica pecca che noi lo scontro diretto all'andata l'abbiamo perso in casa con Montenero e dopo Pasqua andremo lì a Montenero a giocarcela abbiamo gli scontri diretti con il Verano e gli Serdi in casa lì non dobbiamo assolutamente assolutamente perdere e quest'anno ci troviamo lì ci troviamo lì perché c'è la bravura della società c'è la bravura ovviamente dell'allenatore Lorenzo Viglione comunque ha messo ci ha messo anche lui un'ottima mano ovviamente la squadra rispetto all'anno scorso è cambiato poco è cambiato poco quindi c'è solo l'aggiunta di due ragazzi ottimi Bellomo e Ruggero che avvengono dal Vasto Girardi e quindi abbiamo un pacchetto under buono e ci sta girando bene quindi speriamo di continuare così fino a fine campionato io all'inizio del campionato dissi alla società guarda io quest'anno mi sento che vinceremo il campionato perché abbiamo la stessa ossatura dell'anno prima il gruppo c'è tra virgolette un gruppo collaudato di giocatori che hanno fatto chi ha giocato in Serie C chi ha fatto la Serie D chi ha fatto ovviamente campionati importanti e di conseguenza ci troviamo lì perché ovviamente abbiamo questo pacchetto di giocatori importanti e io spero che arriveremo con le giuste forze perché purtroppo ricordiamo ne salgono due allora ne salgono due ma ne potrebbero salire anche quattro perché dipende è successo già l'anno scorso sì perché l'anno scorso il Termoli vinse la finale play-out quindi si salvò la squadra in Serie D quindi eventualmente si salva o Matese o Vasto Girardi o entrambe ne salgono quattro quindi non si fanno i play-off allora facciamo il pronostico salgono Montediero Baranello e Serna Fraterna va bene e Serna Fraterna Polisane e poi Serna quattro in classifica quest'anno diciamo mi delude tra virgolette un po' un po' Riccia perché Riccia ha fatto una squadra abbastanza forte era partita forte il Locomoti poi si è un po' persa si è un po' persa sì si è un po' persa perché ha perso con le ultime in classifica ha fatto un pareggio a busso ha perso col Calena e noi invece scontri diretti con le piccole le abbiamo sempre vinte l'unico scontro diretto che abbiamo perso è stato proprio con Montediero quindi con gli Serna abbiamo vinto fuori casa col Verano abbiamo pareggiato fuori casa con il Riccia in casa abbiamo pareggiato e lì abbiamo sì abbiamo perso però comunque loro hanno perso con le piccole domenica e di conseguenza sì domenica andiamo a Spinete su un campaccio speriamo che il tempo cambi se no sarà veramente una palude quel campo quindi ce la giochiamo anche lì ovviamente sarà una partita che è molto molto fisica e poi abbiamo di Serna in casa quindi sabato prossimo abbiamo questo primo scontro diretto da non sbagliare tra l'altro Pasquale Damiani mi ha anticipato perché io volevo dire stiamo facendo delle ipotesi Pasquale se l'Isernia del presidente Traisci non dovesse riuscire per il quarto anno consecutivo a salire in serie D e se l'Isernia fraterna riuscisse a salire in eccellenza ci sarebbero due squadre del capoluogo Pentro poi tu giustamente hai fatto la battuta sul Bois Vairano però volevo solo ricordare Pasquale Vairano mi sta pure a cuore perché quando frequentavo l'università giocavo con Vairano perché purtroppo non potendo giocare fare più allenamenti optai per andare a giocare a Vairano facevo solo un allenamento il venerdì quindi mi sta anche a cuore Vairano non per altro no però facevo una riflessione sì con due squadre poi non so guarda io non so se Traisci avrà diciamo la voglia di continuare perché è una persona a modo forse è rimasto un po' amareggiato e credo che sia anche lui molto amareggiato perché è una persona veramente io ho conosciuto splendida sotto tutti i punti di vista merita la stima e l'apprezzamento di tutti perché sacrifici poi li sta facendo da soli da solo quindi riesce a mandare avanti questa società poi da quello che vedo non ha grandi sponsor no no non ha piccoli aiuti ma perciò io credo che bisogna tenercelo stretto capisco pure i tifosi che sono presi in un momento di scoramento quindi sono presi pure col presidente però io ritengo che Traisci non abbia colpe c'è solo una considerazione Pasquale senza la squadra lui l'ha messa su Franco cioè lui ha messo su uno squadrone per la categoria per l'eccellenza adesso se stranamente da 4-5 partite la squadra non gioca più come prima perché bisogna prendersi con il presidente insomma prima giocava bene 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 adesso ha delle lacune tecnico-tattiche evidenti agli occhi di tutti quindi è lì che bisogna intervenire quindi dico distingere anche l'allenatore deve capire che la squadra deve essere più sua mi sembra che ci sia un momento di rilassamento generale e questo non va bene perché bisogna mantenere per vincere i campionati la cappa costante se tu riesci comunque dai pure alle altre squadre un po' motivo in più per organizzarsi meglio e affrontarla in modo diverso perché a volte la sudditanza psicologica nei confronti dello squadrone c'è però se tu non dimostri di essere uno squadrone sempre la sudditanza psicologica da parte degli avversari viene meno e allora poi giochi alla pari come è successo con San Pietro di Valle tu hai fatto 3 a 3 all'andata e 3 a 3 a ritorno cioè hai subito 6 gol da San Pietro di Valle sarà pure la bestia nera però io la partita all'andata l'ho vista questa di domenica non ho avuto modo di vederla ma lì è stata una partita non lo so non si può perdere una partita intanto adesso il periodo è proprio decisivo mancano poche gare alla fine del campione quindi adesso è davvero il momento critico io mi appello solo allo spirito di riparsa anche del giovane allenatore perché è un bravo ragazzo quel poco che l'ho potuto conoscere mi sembra un bravo ragazzo deve per ora uscire allo scoperto deve dire io sono l'allenatore e deve tirar fuori dalle sabbie mobili disegna ma cercando di vincere tutte le partite prima del 12 aprile perché arrivare a Pietra Melara non con tre punti ma con quattro punti tu il campionato l'hai perso certo no una considerazione sul fatto che dicevi una considerazione sul fatto che dicevi prima delle squadre campane anche quelle pugliesi il problema però Pasquale è che senza queste squadre si perde l'autonomia cioè non sale direttamente poi la squadra ma l'ho capito questo me l'ha spiegato anche Piero Di Cristinzi che se non ci fossero queste squadre però che senso ha insomma Franco il Molise per avere forza anche in campo calcistico ha bisogno che almeno ogni anno una squadra in Serie D riesca a portarla avere al posto di tre squadre Bastogirati Termolo e Campobasso ma avere anche altre società calcistiche può essere Lisenia ma può essere pure il Guionesi può essere la Turris cioè ogni anno una squadra e poi se riesci a mantenere fai un gruppetto di cinque e tre squadre però pensa l'anno scorso è una cosa importante pensa l'anno scorso che il Campobasso è riuscito e Lisenia ha già perso tre quattro anni fa lo spareggio qui a Campobasso con l'Alto Casettano ai calci di rigore sì sì c'ero anch'io c'ero anch'io seguito no però pensiamo al contrario tipo il Campobasso seppur di poco al fotofinish l'anno scorso ha vinto contro Lisenia ed è salito se avesse fatto gli spareggi con una squadra o pugliese oppure Campana l'avrebbe perso quindi perché non ci sarebbe stata l'autonomia quindi è un discorso complicato anche da io sono se potessi decidere io preferirei più ritornare con la Campania ma permettere insomma poi all'incontrario perché squadre Campania vengono qui se sono ben attrezzate con un po' di soldi a disposizione il campionato lo vengono occhi chiusi e lo stanno dimostrando prima il Matese adesso lo vengono Alto Casertano che sono sempre squadre che giocano per vincere hai capito che hanno poi le idee hanno presidenti allenatori in grado di saper gestire un campionato perché è un'altra realtà quale è quello molisano sì sì no no è un'altra realtà qui se ci togli una o due squadre molisane a campionato che puntano a vincere il campionato le altre cercano di divertirsi sì sì per far contenti i loro tifosi anche nella loro società perché tipo il Baranello il Baranello è un piccolo centro alle porte di Campobasso c'ha un afflato con dirigenza allenatori giocatori i tifosi ed è bello che la domenica ci si ritrovi attorno ad una squadra di calcio come d'altrondello è stato anche fino per tutte le altre squadre anche io ricordo che quando si giocava al vecchio 10 settembre quando poi è stato realizzato l'auditorium c'era un afflato particolare da una parte all'altra sembrava una bomboniera lì ti venivano i brividi nel vedere giocare la squadra come il vecchio romagnolo è la stessissima cosa sembrava quasi che a proposito Pasquale tu non vivi qui quindi da esterno diciamo tra virgolette siccome domani la commissione del comune decide poi per la consultazione popolare tu da sportivo così è una da super partes per l'intitolazione dello stadio di Selvapiana che ora ha la denominazione commerciale Avicor Stadium Molinari Scorrano entrambi tu come la vedi? io intanto non so non so perché si chiama Avicor Stadium è una denominazione commerciale ma chi lo ha deciso è la nuova società che ha in gestione è lo stadio di proprietà della società o del comune? il comune però ce l'ha in gestione e comunque il comune ha avallato questa allora d'accordo con il comune c'è stata la denominazione perfetto però se si deve fare un'intitolazione questo Avicor Stadium deve scomparire perché mi sembra logico perché due personaggi del calibro di Tonino Molinari e di Scorrano meritano entrambi di vedere il titolare allo stadio Tonino Molinari è stato un grande perché senza Tonino Molinari il Campobasso non sarebbe esistito neanche forse probabilmente neanche Scorrano Scorrano è stato l'emblema del Campobasso calcio quindi un giocatore fortissimo si vedeva proprio giocava col cuore quindi io sono per il 50% però se poi proprio dovessi fare decidere io intitolerei Antonio Molinari e la curva la intitolerei a Michele Scorrano ma entrambi meritano senza dubbio in ugual misura l'intitolazione dello stadio perché sono stati due grandi personaggi che hanno dato poi ci sono le esigenze commerciali perché senza gli sponsor magari in quello stadio non ci giocherebbe nessuno quindi oggi gli sponsor insomma è una bella gatta da pelare questo nel senso se si potesse come diceva il direttore togliere questa denominazione commerciale ma è un'entrata importante allora farlo farlo indestarlo a tutti e due tra l'altro dovrebbe venire Aldo Vicenzo proprio tra poco qui con Matt con Patrick Chowen e dovrebbe venire anche Angelo Pastotti origini di Uri siccome in tutti i campi i soldi servono voglio dire quindi fanno aprire le porte le fanno chiudere in qualsiasi mondo non solo nel calcio penso sia impossibile giustamente come dicevi però vedi scusa ti dico solo un attimo se lo stadio è di proprietà privata tipo quello della Juventus si chiama Juventus Stadium va bene però a Napoli è stato cambiato il nome da San Paolo a Maradona perché è comunale quindi lì è prevasto un'altra un'altra diciamo non conosco la convenzione più che una intitolazione è una denominazione è una denominazione però quando è intitolazione quindi è una proprietà è una struttura proprietà comunale per cui si tratta di una struttura neanche di un'intitolazione di una via di una piazza per cui non necessita neanche della vallo della commissione toponomastica per cui è il comune con la semplice delibera che deve decidere se intitolarlo a Tonino Morinari o a Scorrano e credo che insomma è difficile guarda perché sono due con una petizione io penso è una petizione il tifoso perché il tifoso che va che fa la petizione cioè chi non è tifoso non va chiamiamolo a fare a scrutinare un nome quindi prima secondo me era prima della morte del presidente era giustissimo che fosse Michele Scorrano a intitolare lo stadio oggi lo meriterebbero tutte e due però visto che Michele ha la curva Scorrano stupenda bellissima io intitolare lo stadio a Tonino Morinari ma lo meritano tutte e due siamo quasi in conclusione chiederei un giro veloce a testa come vedi la gara a Tivoli Luca del Campobasso domenica la samba un incontro tra l'altro inizia più tardi alle 15 con Monte Rotondo quindi sulla carta molto più facile allora una partita da tre punti quindi il Campobasso deve andare lì deciso e portare a casa la vittoria per proseguire questo bellissimo campionato che sta affrontando e sperare ovviamente in un passo falso della San Benedettese all'andata mi pare che il Tivoli da quello che ho potuto vedere era una squadra composta da molti giovani quindi è una squadra meno esperta rispetto al Campobasso e quindi bisogna andare lì con le idee chiare mettere la partita sul sicuro già dal primo tempo e portare a casa questi tre punti mi dici un pronostico sull'eccellenza tra Isernia e Alto Casertano come? allora io da Molisano ho detto anche prima conoscendo anche il presidente Traisci ho avuto modo di conoscerlo spero che l'Isernia salga dopo quattro anni tra virgolette infernali in serie di calpestare parcoscenici diversi rispetto a quelli regionali anche perché poi non so se il presidente dell'Alto Casertano potrà tenere ovviamente sia il Termoli che l'Alto Casertano interregionale quindi io spero veramente che l'Isernia salga in eccellenza e spero che in promozione saliamo noi direttamente in eccellenza speriamo bene bocca al lupo per la gara di domenica grazie grepi lupo e un saluto agli amici di Baranello certamente Lino sai che non sapevo che tu non vieni più al campo a seguire le gare no no sto venendo hai detto dalla gara alla San Mellettino ah pensavo solo con la San Mellettino no 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 quindi dal gol di Persichini sei tornato sì bravissimo ma perché voglio dire ma me lo sentivo io soffrivo a stare a casa a seguire la televisione quindi poi il mio figlio mi dà andiamo andiamo e quindi andiamo ma c'è stata una delusione così comunque io credo che per tutto il movimento calcistico regionale sarebbe importante avere una squadra tra i professionisti si crea non lo ripetiamo anche per le scuole calcio ma si crea tutto un movimento commerciale sociale cioè veramente un qualcosa di eccezionale bellissimo e poi vediamo il calcio beh spieghiamo bene questo non è calcio questo tirano un pallone avanti ma anche perché il calcio fa sentire vicini anche i nemici sì sì mi ricordo quando io ero un giovanotto di belle speranze seguivo l'isernia calcio ai tempi di Remo Pontarelli poi man mano era bello perché tu poi la domenica andavi mangiavi in fretta in fuia al ristorante per stare alle 14 e 30 quando si giocava un po' verso aprile maggio che si giocava alle 15 e 30 alle 16 si stava meglio però si partiva con entusiasmo ricordo noi facevamo le radio croniche mica c'era il telefonino si faceva con trovando una casa in prossimità del campo sportivo allungando anche il filo di 3-400 metri per poter fare la radio croniche ma erano altri tempi così veniva anche col campo basso poi c'era un afflato io ricordo quando Molinari andò in serie B con il campo basso e l'isernia fece il suo primo campionato di C2 c'era un afflato anche fra le tifose e poi un po' con il passare del tempo è accaduto qualcosa qualche cortocircuito io mi augurerei veramente di ritornare agli antichi splendori sia del campo basso che è dell'isernia e mi auguro che domenica l'isernia che sarà seguita da quei fantastici ragazzi li chiamo così sono ragazzi che sono proprio patiti quelli partono così e vanno al seguito della squadra andranno a Guionesi e mi auguro che l'isernia risponda bene in campo per dare ancora qualche ultima speranza perché siamo attenti bisogna vincere tutte prima di affrontare poi nello scontro perché se l'isernia dovesse arrivare a tre punti e vincere la gara poi lì a Pietra Melara come fece lo scorso anno perché l'isernia lo scorso anno anche se a Porta Chiusa io l'ho vista giocò benissimo mi ricordo vinse alla grande vinse alla grande mi ricordo e lì è un campo sintetico che si permette di giocare a quel punto andando appaiati in classifica avendo vinto entrambi gli sconti diretti Spareggio sarebbe Spareggio No, no, no gli sennia con un scontro ha direttamente in ZD ma direttamente in ZD perché ha vinto entrambe le gare capito qual è il problema mentre loro sono avvantaggiati perché hanno tre punti di vantaggio purtroppo Pasquale ti volevo dire un'ultima cosa però altrimenti mi dimentico domenica e poi ti chiederò questa cosa qui domenica presso l'ex GIL domenica mattina c'è l'inaugurazione di un evento importante se la regia può mettere a schermo intero la locandina raccontami come era il calcio un secolo di azzurro e quindi ci sarà anche Totò Schillaci indimenticabile protagonista di Italia 90 e quindi poi per tutto il mese di marzo c'è anche Franco Selvaggi che non dimentichiamo è stato campione del mondo perché anche se la riserva di quella squadra non ha mai giocato non ha giocato nessuna pancina però anche lui contribuì alla vittoria del candidato esatto e quindi è un appuntamento insomma domenica alle 11 l'inaugurazione e poi c'è tutto il mese per vedere tra l'altro Pasquale dal 1800 i cimeli dal 1890 sarà molto bello deve essere una cosa bisogna andarlo a vedere perché credo che a tutti faccia piacere vedere un po' quei cimeli storici del calcio italiano e quindi invitiamo tutti a seguire questo evento per chiudere Pasquale parlando ieri con il direttore generale Giorgio Palmeggiano mi diceva che loro accoglieranno la richiesta dei tifosi di giocare le ultime gare interne mi sembra che sono rimaste cinque partite in casa all'Ancellotta quindi l'Isernia giocherà lì ha detto accordiamo questa richiesta della tifosi a questo punto del campionato speriamo che auguriamoci sempre che l'Isernia vinca giocare su quel terzo gioco certamente non sarà il gioco spumeggiante dell'Isernia perché con quei giocatori che hanno una tecnica pregevole per la categoria naturalmente il rapporto è sempre alla categoria delle celebre sono giocatori che hanno militato in categorie superiori che poi hanno questi argentini hanno giocato in precedenza sempre insieme anche con squadre pugliesi quindi hanno un affiatamento eccezionale io li ho visti giocare mi sono divertito tantissimo da 4-5 giornate purtroppo ho il magone e comunque non vado oltre perché non voglio offendere la società di Italia ma i tifosi mi auguro così di poter giocare in casa e andremo a vedere le partite anche se su quel campo mi sono d'accordo se dovesse piovere certo lo so speriamo però che poi a maggio e giugno si possa voi avete giocato sul campo dell'Isernia no noi abbiamo giocato l'andata a Cerro Volturno a Cerro anche con la squadra dell'Isernia siamo ascolti in promozione sì sì va bene e allora io ringrazio Luca Cappelletti difensore del Baranello in bocca al lupo per Domenica Spinete e per il campionato Crepi il lupo e grazie a te Francesco 5 secondi sai che io e Luca lavoriamo nel nostro ufficio infatti ho detto ma lo conosce quindi volevo salutare un attimo i componenti del nostro staff salutiamo anche Vittorio partendo dal front office fino alla presidenza io vedo più Vittorio che te Luca sinceramente certo ci troviamo noi per motivi di lavoro siamo sempre lì nel blocco sportivo del Bar dello Sport grazie a Lino grazie a te Colarusso detto Pasquale non Pasquale detto Lino ex assessore allo sport ringrazio il direttore editoriale di Teleregione Pasquale Damiani Pasquale domani sera grazie a te ore 21 ore 21 ricordi quando con Nino Innosa conducevi sulla vecchia programmi sportivi io ti vedevo sempre la sera eh ma noi io ho iniziato come colorista sportivo e mi divertivo perché d'altro ho fatto anche modestamente il calciatore in categoria naturalmente direttantistica allora la promozione non c'era neanche l'eccellenza non c'era solo la promozione quindi ci divertivamo così il tempo passa troppo in fretta e poi naturalmente sono passato dietro le telecamere era il 1979 allora stavo a Telemolise e quindi sono 45 anni caro Franco eh? una vita è una vita però c'è la passione dai Pasquale però con i sedi abbiamo trascorso i bei momenti va e speriamo che continui ancora ad essere così e allora in bocca al lupo io ringrazio voi che ci avete seguito ci vediamo giovedì prossimo ore 21 la replica venerdì pomeriggio alle 16 e 15 circa sempre sul canale 17 in Abruzzo e in Molise grazie ancora buon proseguimento grazie a tutti grazie a tutti Grazie per la visione!